Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di BlueStars dove creeremo un nuovo club, cioè il mio club. E così il nome del club si chiama The Artist Club. E' questo fatto. E' questo fatto. 1, 2, 3, 2, 3. E' questo. Entrati. Sì. E' questo. no entrate no dai ok raga l'ho creato entrateci ok andiamo per il brawler che c'è un brawler sicuramente ah va bene allora andiamo insolvenza con Leon qui ok 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 Grazie a tutti. 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 Oh... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.